Una bella domenica mattina di sole fa anche piuttosto caldo. Si è aperta così alla Rocca di Borgo a Mozzano la seconda edizione dello challenge di mountain bike trofeo Ducato Lucca. Al via del primo trofeo mountain bike La Rocca si sono presentati circa un centinaio di atleti suddivisi nelle varie categorie. I corridori dovevano affrontare un circuito tecnico impegnativo da ripetere tre volte per un totale di 19 chilometri e mezzo. Alla fine la spuntata Giuseppe Panariello di Montignoso per la cronaca nipote del celebre comico Giorgio. Alle sue spalle due rappresentanti della Jurassic Bike Mirko Pistolozzi e Nicola Ogliani. L'atleta massese ha indossato virtualmente anche la maglia bianca simbolo del primato dello challenge. In campo femminile da segnalare il successo di Martina Paladini che invece correva in casa davanti a Milena Barsottelli. La classifica per società visto primeggiare il giovo team Torpado. Prossimo appuntamento il 24 giugno sull'altopiano delle Pizzorne per la seconda delle quattro prove complessivamente previste.